Ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Proseguono le operazioni di soccorso in via Mariti a Firenze dopo il crollo di un solaio. Ricordo che nell'area via Mariti, via del Ponte di Mezzo, via dei Marignolli è stata istituita la chiusura di via del Ponte di Mezzo da via Mariti direzione via del Massaio e via Giovanni da Empoli da via dei Marignolli. Passiamo al traffico, traffico intenso sull'A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Ancora in A1 materiali dispersi tra Arezzo e Valdarno direzione Firenze. Ci spostiamo in A11, anche qui il traffico è intenso tra Firenze Peretola e Firenze Ovest direzione Pisa e ancora in A11 tra Prato Ovest direzione Firenze rallentamenti. Non ci sono altri aggiornamenti al momento. Moversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.